Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui sempre il vostro caro Michele Maraglino. Oggi vediamo un business clamoroso, ragazzi, vi trasmetto proprio un'idea per creare un business online da zero. Allora, partiamo dai social, ok? Utilizzeremo, cioè creeremo qualcosa da vendere, ok, creeremo qualcosa da vendere che veicoleremo attraverso i social e che i social ci porteranno traffico. Questi social, i contenuti che pubblicheremo per vendere, quello che andremo a creare, saranno praticamente già fatti. Dobbiamo soltanto tradurli in italiano e seguitemi perché è un metodo incredibile. Se vuoi approfondire l'argomento di questo video ti ricordo che in descrizione c'è il link al mio corso gratuito di un'ora dove ti parlo della mia esperienza e ti spiego come io riesco a fare più di 3.000 euro al mese in organico con i prodotti digitali più un canale YouTube, più il blog. Clicca in descrizione, c'è il link oppure vai su corso gratis.michelemaralino.com dove c'è un corso più approfondito di un'ora dove ti faccio vedere come io nella nicchia musica con il mio canale YouTube Michele Maralino Musica e i miei prodotti digitali e le mie consulenze riesco a guadagnare online con una mia competenza in una nicchia specifica che poi è il modo migliore, più serio per guadagnare online, forse l'unico modo vendere le tue competenze vendere prodotti digitali e vai in descrizione e corso gratis.michelemaralino.com se vuoi approfondire anche tu vuoi imparare come fare più 3.000 euro al mese in organico senza pubblicità, senza spendere soldi in organico con un canale YouTube o una pagina Instagram o un canale TikTok con il social che preferisci, il mio preferito è YouTube ma si può applicare con qualsiasi social più un blog più i prodotti digitali e c'è un'offerta alla fine di quel corso molto interessante dove hai tutta la mia formazione se vuoi ancora ulteriormente approfondire e imparare passo passo come creare un sito internet che vende prodotti digitali, come creare un blog, come creare un canale YouTube che ti fa guadagnare dalle affiliazioni, dalla vendita dei tuoi prodotti, dalle collaborazioni, dalle sponsor un mondo pazzesco e ti posso aiutare a seguire da vicino ma parti dal corso gratis.michelemaralino.com vai in descrizione e scarica il corso gratuito di un'ora e adesso torniamo al video ci serve CiaJPT, ci serve un tool per tradurre i video ma traduzione proprio che il labiale parlerà italiano da inglese a italiano e poi ci servirà appunto un social, in questo caso io credo TikTok quindi anche Opus Clip, ho dimenticato qui di aggiungere qui nelle tutte le finestre che ho aperte Opus Clip, quindi ci serve tutto questo, adesso ti spiego tutto passo passo, iscriviti al canale ti spiego come fare business online, ti consegno veramente dei corsi gratuiti quindi iscriviti mi raccomando e commenta Miki sei smalorditivo perché è la verità iscrivetevi e commentate Miki sei superlativo adesso noi creeremo dei prodotti che andremo a vendere, ci sarà anche Amazon ma questo è un video pazzesco, mettiamoci anche dentro Amazon, KDP perché partiamo con ordine, andiamo a vedere, partiamo dal prodotto dobbiamo creare dei libri, ok, libri sul mindset, ok, libri sul mindset io vi consiglio magari di creare una casa editrice indipendente che pubblica libri sul mindset sulla legge d'attrazione e che praticamente, che cosa fa? Li vende tramite Amazon, ok però poi dovreste anche creare, secondo me, un sito che raccoglie molto semplice con WordPress vediamo tutto in questo video perché dico questo? Perché noi dobbiamo avere un link perché utilizzeremo TikTok per poi promuovere questa casa editrice allora, ci basta andare sul CiaGPT e chiedergli mi dici dieci titoli per libri che parlano di mindset e legge dell'attrazione? punto di domanda lui ci dà dieci titoli adesso vi lascio anche qui nelle schede il corso gratuito quindi quasi un'ora su come scrivere un libro con CiaGPT in modo gratuito per tutti quelli che vogliono approfondire c'è il mio programma Marrakesh Amazon Edition vi lascio il link in descrizione andate su kdp.michelevaranino.com vi facciamo i video, scusate, vi facciamo i libri noi se andate su kdp.michelevaranino.com avete la migliore formazione per scrivere libri con l'intelligenza artificiale senza che nessuno vi praticamente mai dirà che quel libro è un plagio è stato scritto dall'intelligenza artificiale perché vi consigliamo i migliori tool per farfrasare il testo i migliori tool per trovare le keywords profittevoli per portarti a profitto e per riuscire a farti creare dei libri di qualità che ti generano royalties ogni mese ragazzi i corsi sono quattro corsi completi di qualità pazzesca in più avete dieci libri pronti che vi scrive il mio team di ghostwriter professionisti che utilizzano un po' l'intelligenza artificiale ma ci mettono un po' anche del loro sono libri altamente profittevoli andate su kdp.michelevaranino.com se volete approfondire il business dei libretti di Amazon sfruttando l'intelligenza artificiale è il miglior metodo uno tra i migliori metodi di guadagno online che sfrutta l'intelligenza artificiale mi raccomando trovate i link in descrizione kdp.michelevaranino.com comunque ecco qua mindset la nuova psicologia del successo di Karol Dweck ah no 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 però lui mi sta dicendo dei libri che esistono allora gli diciamo devo scrivere un libro sul mindset un libro nuovo mi dici dieci titoli devo scrivere dieci libri dieci libri nuovi sul mindset mi dici i titoli più accattivanti possibile ok fai invio oh e qui abbiamo i dieci titoli possiamo quindi sviluppare guardate il video gratuito se vuoi fare da solo altrimenti vai su kdp.michelevaranino.com e acquista Marrakesh Amazon Edition sviluppi tutti questi libri li carichi su Amazon li pubblichi e ce li hai lì ok ti inventi un autore diverso per ogni libro ripeto vuoi approfondire ti metto il corso completo qua nelle schede lo trovi anche nella playlist corsi completi gratis guardatela e iscrivetevi se non siete iscritti ragazzi perché è una bomba pubblichi secondo quel corso gratuito però ti diciamo e stai attento se fai come quel corso diciamo in cui praticamente io prendo da CagPT creo il libro e mi crea il libro che lo copio pari pari da CagPT lì si rischia un po' che Amazon ti può bannare bisogna lavorarlo il testo spieghiamo tutto in modo più approfondito in Marrakesh Amazon Edition vai su kdp.michelemaraglino.com per non rischiare bann per fare le cose per bene mi raccomando quindi ti dico di lavorarci di modificare un po' di non fare copia e incolla comunque nel corso gratuito vedi praticamente come si fa nella parte semplice però ti consiglio di approfondire con il mio percorso per fare le cose per bene fatte in modo serio su Amazon su Marrakesh Amazon Edition kdp.michelemaraglino.com prendi questi li pubblichi su Amazon e magari poi crei un piccolo sito con Wordpress dove raccogli magari metti crei un piccolo e-commerce dove metti le copertine e il link per comprare su Amazon ok? e tu hai la tua casa editrice magari la chiami mi suggerisci mi suggerisci il nome per una casa editrice che pubblica libri sul mindset certamente come ti sembra? mente in edit non mi piace capisco pensiero prolifico edizioni ok grazie chat anche se non è il massimo perfetto pensiero prolifico edizioni suona bene evocando l'idea di un pensiero fertile e ricco di contenuti in bocca al lupo per la tua nuova casa editrice c'è la GPT è fenomenale gli vuoi bene gli vuoi bene dici come abbiamo vissuto senza c'è la GPT oppure come abbiamo viaggiato senza navigatore forse meglio chi lo sa io senza navigatore mi perdo mio padre sa trovare la strada gli uomini il mondo sarà salvato da chi sa leggere una cartina quindi siamo spacciati va bene ma questo è un altro argomento così anche per ridere ragazzi perché sennò questi vi piace il cubo o il cubo chi sa fare il cubo aiutatemi sono troppo schizzato iscriviti al canale perché sono troppo schizzato ah torniamo concentrati ok abbiamo i nostri libri ciao non lo so più dire chat GPT ci aiuta in tutto questo pubblichiamo tutti i nostri cosi tutti i nostri libri approfondisci sugli altri video te li metto qua nelle schede che ti possono essere utili e vai hai la tua casa editrice poi apri pensieroprolificoedizioni punto com metti tutti i tuoi libricini commenta se vuoi un approfondimento sul blog ma comunque puoi vedere il mio corso gratuito sul blog lo trovi anche te lo metto qui nelle schede su come aprire un blog c'è tutto in questo canale youtube ti sei iscritto veramente veramente iscriviti quindi apri il tuo blog e lì ci sono i tuoi libri e la tua casa editrice ok vendi libri le copie cartacee mi raccomando vi do sempre qualche consiglio fate libri da 200-300 pagine così potete vendere a 25 euro 27 e si margina di più su 27 euro te ne arrivano magari 15 da amazon quindi capite che poi ci sono le vendite che ti genera amazon in organico e se vuoi mettere in piedi un business di libri scritti con intelligenza artificiale in un'ora anche puoi farlo e che ti generano royalties ogni mese sia cartacee che kindle che digitali vai su kdp.micheremaranino.com posso seguirti da vicino scriviamo i libri al posto tuo non è che diamo cioè tu acquisti il pacchetto ricevi subito i corsi noi ci mettiamo a lavorare e ricevi poi i libri pronti da pubblicare di oltre 100 pagine scritti da professionisti kdp.micheremaranino.com ok abbiamo tutto questo ora che dobbiamo fare dobbiamo portare traffico sul nostro sito sulla nostra casa editrice ok tramite amazon noi stampiamo i libri perché molti ancora mi chiedono ma i libri cartacei print on demand amazon li stampa solo quando c'è un acquisto fa tutto amazon noi sul nostro kdp account vediamo le royalties che stiamo guadagnando e ogni mese ci pagano pazzesco chi è il re del il più grande luminare vediamo se qui è uscito il suo nome il napoleon hill no forse non ha scritto molti libri noi adesso dobbiamo prendere i diciamo video di un luminare del mindset della legge d'attrazione da crescita personale e praticamente pubblicare questi contenuti dove li andiamo a prendere abbiamo il canale ufficiale di prop di prop di proctor di Bob Proctor ragazzi è lui il più grande luminare ok della legge dell'attrazione ti insegna tutto questo ok andatevi a vedere anche il segreto è uno di è un film sulla legge dell'attrazione è uno degli scienziati che compare che parla durante quel film The Secret dovrebbe essere su YouTube io l'ho visto vi esplode la mente come vedete abbiamo video di qualsiasi durata 51 minuti 44 minuti 2 minuti 38 minuti no possiamo prendere un video ok copiare il link e tradurlo ok lo traduciamo in italiano con Agen Agen è un'app di cui ho parlato che ho già fatto vedere magari guardatevi quel video in cui mi fa parlare in inglese quindi ti metto il link nelle schede il video nelle schede andiamo su Agen traduciamo il video in italiano ok andiamo su qui su labs c'è la funzione video translate copiamo il video mettiamo possiamo mettere quindi dobbiamo scaricare il video poi lo carichiamo qui lo traduciamo in italiano cioè si lo traduciamo in italiano qua ti chiede la lingua ok credo in italiano lui ci dà il video in italiano ok poi andiamo su opus clip ci facciamo fare anche opus clip ne abbiamo già parlato ragazzi c'è tutto ma il suo opus clip lo dividi in short prendi questi short e apri una pagina tiktok perché potreste aprire anche un canale youtube però non so con copyright se non credo però per sicurezza usiamo tiktok perché a livello organico vi porta molte più visualizzazioni vi porta molto più traffico quindi aprite una pagina su tiktok che chiamate mindset revolution oppure anche con il nome della casa editrice quindi in questo caso pensiero fertile ok pensiero fertile ok cominciate a pubblicare i video in italiano di Bob Proctor perché sono libri in italiano vi rivolgete a un pubblico in italiano potreste fare tutto questo in inglese e allora non dovete neanche tradurre i video li prendete dal canale youtube di Bob Proctor e li mettete su opus clip e avete gli short e avete poi i vostri i vostri short li caricate su tiktok quando arrivate a 1000 iscritti su tiktok potete mettere il link mettete il link della casa editrice e quei video vi macineranno un sacco di view e le view si tradurranno in click ok sulla casa editrice e poi acquisti quindi voi guadagnerete sia direttamente da amazon ma anche se metterete in piedi questa pagina social tiktok questo metodo ora io ve lo suggerisco con questa idea che ho visto che io vengo dalla musica chi mi segue lo sa quindi mi piace anche l'idea della casa editrice io ho aperto la mia casa discografica ho lavorato tanti anni nella musica lavoro ancora come ufficio stampa abbiamo fatto anche tanti dischi prodotto quindi mi è sempre piaciuto questo mondo parallelamente alla casa discografica anche la casa editrice e non è detto che io non puoi metta in piedi tutto questo questa idea di business che adesso ti sto trasferendo gratuitamente iscriviti al canale per favore te lo chiedo per favore scrivi qualcosa nei commenti mi aiuti tanto a crescere dobbiamo arrivare almeno a 15.000 iscritti entro la fine dell'anno dai iscriviti e commentami chi sei sballorditivo però puoi prendere prodotti in dropship puoi creare uno store puoi utilizzare attraverso i social puoi creare dei contenuti e puoi sfruttare tiktok per portare traffico al tuo sito puoi fare qualsiasi cosa certo questa idea che ti ho dato io è semplicissima è la cosa più semplice crei dei libri che già ti vende Amazon poi magari li riunisci tutti intorno ad un in un blog che poi ovviamente ci metti le copertine fai bello il blog poi clicchi su acquista il libro e magari ti metti il link di Amazon e quindi gli acquisti poi avvengono su Amazon quindi le copie cartacee non hai nessun problema non hai nessun magazzino non devi anticipare soldi è tutto a costo zero pazzesco quindi ti crei questi libri li metti su Amazon poi crei il tuo sito della casa editrice prendi il link ho una ho scelto il mindset proprio perché sul canale di Bob Proctor hai una marea di materiale una marea di video che puoi tradurre in italiano oppure utilizzare così se fai tutto in inglese ma li traduci in italiano con igen li trasformi in short con opus clip li pubblichi su tiktok e pubblici il link della tua casa editrice questa cosa farà schizzare le tue vendite ancora di più perché Amazon magari ci vorrà un po' di tempo i libri all'inizio fanno poche vendite poi piano piano arrivano le prime recensioni un po' ci vuole tempo attraverso questo attraverso questo metodo che utilizza anche i social puoi velocizzare e portare e venderti da solo ora tutto questo non ti impedisce di applicare tutto questo a dei prodotti digitali tuoi ok senza che vai su Amazon magari ti crei un corso ti crei dei libri dei pdf la guida su qualsiasi nicchia ti crei il tuo prodotto digitale ti crei la tua bella paginetta dove lo vendi quindi metti quel link crei i contenuti social li puoi anche creare con fly che punto ai senza andare a prendere materiali di altri con fly che punto ai adesso ho visto anche pictori che è un bel tool per fare i video con l'intelligenza artificiale crei i video con cagpt li metti il testo va va via mi esplode il cervello su quante cose possiamo fare quindi puoi anche applicare questo metodo ai tuoi prodotti digitali quindi al tuo sito al tuo e-commerce di prodotti digitali e quindi utilizzi social per promuoverti però c'è ti ho dato brevemente ti ho già dato in questo video ti ho detto dove trovare il materiale ti ho detto l'argomento dove trovare il materiale per i social ti ho detto come impostare una casa editrice come sfruttare Amazon ovviamente se vuoi approfondire Amazon alla vendita di libretti prendi il mio percorso Amazon c'è Marrakesh Amazon Edition lo trovi sul link kdp.michelemaralino.com ti lascio anche il link in descrizione credo che sia stato un video clamoroso anche questo gratuito è pazzesco è un io proprio sono l'unico che vi dà proprio ma giù nei dettagli non è che ti dico si guadagna con crea uno store no ti do proprio un'idea ti do ti do tutto ti sei iscritto ma è pazzesco questo lo scrivete per favore nei commenti Michi questo canale youtube è pazzesco scrivete questo scrivete questo sperando che il micropolo sia acceso trovate tutti i link in descrizione sul mio programma Marrakesh Amazon Edition posso seguirvi da vicino vi iscriviamo i libri per voi trovate tutte le informazioni lì acquistate abbiamo dei posti ora liberi in questo novembre ancora pochi posti quindi comprate 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 e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo metodo e iscrivetevi supportatemi se questo video è stato utile vi ho dato un sacco di valore lasciate un commento iscrivetevi al canale lasciate un commento scrivimi che questo canale youtube è pazzesco pazzesco ragazzi vi aspetto nei commenti iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video ciao